Onorevole Briano, lei al Parlamento Europeo si occupa in particolare della pesca, ci sono novità importanti in questo settore? C'è un dibattito aperto ad esempio sull'utilizzo delle reti, su quale tipo di rete? Sì, mi hanno affidato un dossier come relatrice, dalla Commissione è arrivato un divieto assoluto di utilizzo delle reti derivanti. Adesso ne stiamo discutendo, la mia posizione è quella di rigettare un divieto assoluto, perché in un momento in cui noi vogliamo regionalizzare la pesca, il fatto che l'Europa decida per tutti che cosa fare è sbagliato e quindi invece stiamo cercando di approfondire, anche grazie all'aiuto che le stesse associazioni di categoria, ma anche le associazioni ambientaliste ci stanno dando, di fare una controproposta alla Commissione che appunto non metta questo divieto ma eventualmente vada nello specifico a definire che cosa in qualche modo va ridotto, va evitato di usare perché danneggia il nostro mare e che cosa invece si può utilizzare? Perché spesso i pescatori, soprattutto i pescatori artigianali invece utilizzano reti che sono fortemente selettive, che non creano danno all'ambiente e che però insomma fanno vivere questo settore, quindi danno da lavorare a delle famiglie e quindi nella sostenibilità ambientale c'è anche quella sociale che va sempre messa insieme. Lei ha un contatto diretto con i pescatori riguri, delle pause col Parlamento europeo? Sì, intanto attraverso le associazioni di categoria e poi sto organizzando una serie di uscite, anche in mare, laddove è possibile, con i pescatori, perché io credo che per parlare di un settore bisogna conoscerlo, quindi al di là di quello che si studia, i dati sui libri, conoscere anche il mare, e occorre anche conoscere che cosa fanno, che strumenti utilizzano, quali sono le difficoltà, perché spesso dall'Europa poi arrivano normative come questa per esempio del divieto dei rigetti in mare, del pesce pescato incidentalmente, altro tema di cui si sta parlando, che per i pescatori industriali è facilmente risolvibile, ma per chi pesca in maniera artigianale, con barche di piccola taglia e con poco personale a bordo, è molto difficile da portare avanti. E quindi, proprio grazie a loro e a quello che mi fanno imparare, è possibile poi difendere questo settore.